È il primo anno che frequentiamo qui perché venivamo da un'altra scuola e devo dire che siamo molto soddisfatti della scelta. Il bambino viene con molto entusiasmo nonostante sia il sabato mattina alle nove, quindi questo vuol dire che trova veramente un ambiente accogliente. Gli ho iscritti quando frequentavano le scuole elementari, quindi quando avevano sette anni, perché ormai non si può prescindere dalla conoscenza della lingua inglese così come si conosce l'italiano. Dopo la pandemia ci siamo resi conto comunque che era necessaria una scuola e per noi l'unica scuola che esiste è il British Council. Abbiamo scelto questa scuola per il livello di qualità, per la professionalità degli insegnanti e per la metodologia, quindi sono piccoli gruppi di pari. Devo dire che l'esperienza è stata assolutamente positiva perché loro hanno sempre frequentato con molto piacere la scuola, sia per gli insegnanti che per il gruppo classe. Sono molto contenta sia io perché sono molto esigente e sono contenta dell'insegnante di mia figlia che ha un approccio dolce e attento e basato sul singolo bambino, che non è scontato dato che è comunque una lezione di gruppo. Suggerisco l'ambiente perché è davvero stimolante e soprattutto le insegnanti perché riescono a trasmettere oltre che le conoscenze una carica umana veramente importante. Vengono presentate attività molto motivanti e sono da stimolo anche per i genitori. Non posso se non consigliare questa scuola l'attenzione sul singolo sia sulle esigenze del singolo sia sulle esigenze dei genitori, quindi c'è un riscontro, un confronto e se c'è bisogno di parlare gli insegnanti sono disponibili anche a fine lezione. E quindi devo dire che l'esperienza è stata molto positiva sia dal punto di vista così umano sia dal punto di vista didattico perché loro adesso seguono i film in inglese e sono molto motivati anche nell'approfondimento della lingua inglese e devo dire anche io come genitore sono molto soddisfatta. Grazie